Ci troviamo in Piazza Cisterna, il piazzo di Biella con Diana Sartori dell'Associazione Noi del Piazzo che per la quarta volta organizza Natural Be Life. Di cosa si tratta? Natural Be Life è una manifestazione dedicata agli stili di vita sani e naturali organizzata in quattro aree che sono l'alimentazione sana e naturale, l'abbigliamento etico e le fibre organiche come cotone, lino, lana e chia, il settore casa e arredamento ecosostenibile e il settore del benessere, inteso come benessere olistico che corpo, anima e spirito. Tutto nella splendida cornice del borgo medievale che insomma quest'estate è stata protagonista di tanti eventi. Tantissimi eventi, sì, infatti diciamo che la missione dell'Associazione Noi del Piazzo è proprio quello di rilanciare il borgo medievale e quindi di creare un afflusso di turismo e anche di persone del territorio che vengano a riscoprire uno dei luoghi sicuramente più interessanti e con palazzi storici che proprio in occasione di queste manifestazioni sono aperte, sono visitabili con delle visite guidate anche. Peraltro oggi, oltre alle aperture dei palazzi, anche della sinagoga, una cosa eccezionale, non di tutti i giorni. Non di tutti i giorni, sì, proprio questo pomeriggio dalle due e mezza e con cadenza ogni mezz'ora sarà possibile entrare e visitare la sinagoga di Biella e questo è abbastanza eccezionale perché non è sempre possibile visitarla. Va bene, allora vi ringraziamo, vi salutiamo anche perché qui siamo travolti dalla folla che vuole arrivare a Piazza Cisterna. Grazie e complimenti per la manifestazione. Grazie mille, grazie a voi.